la seconda parte di Tarantellina. Prima di eseguire la seconda parte dobbiamo memorizzare questa sequenza di tre note, insieme ai bassi però. Sul 2 dobbiamo mettere il basso, sul 3 niente e sul quarto l'accordo. Ripeto. Di nuovo. Poi aprendo. Di nuovo. Cercando poi di legarle. Dopo averle ripetute tantissime volte, possiamo iniziare a leggere le prime note della seconda parte. E questa frase la ripetuta tantissime volte. Velocizzandola. Dopo averla ripetuta tantissime volte e memorizzata molto bene, possiamo proseguire nella lettura. Anche qui sarà una ripetizione della stessa frase invertendo solo il mantice. E si ripete di nuovo questa parte.